Io ho dato disposizione, sono arrivate ieri le famose 100 sedute con ribartine, con le rotelle per intenderci. Noi le abbiamo acquistate anche prima tutta la polemica, le dico la verità. Ci sono arrivate ieri, le abbiamo montate, abbiamo un centinaio perché abbiamo tre classi pollaio, cosiddette pollaio, cioè due classi da 29 e una classe da 27. In realtà sono arrivate per le scuole medie, chiamiamole così, di Lozzo e di Cinteuganio, non per Bo, perché a Bo già a giugno sono arrivati dei banchi trapezoidali, non con ribartina. E le dico, allora, questi banchi, ecco, ci tengo a dire una cosa, a smentire che i banchi, queste sedie con rotelle, chiamiamole così, hanno un costo di 400 euro, assolutamente no. Noi le abbiamo acquistate da un'azienda, non faccio il nome, ma da un'azienda triveneta, quindi, insomma, a poche decine di chilometri da noi, insomma, qui da Padova, e hanno un costo sui 120 euro, IVA inclusa. Quindi, insomma, più o meno siamo sullo stesso ordine di grandezza degli altri banchi. Anche lì io ho sentito le polemiche, però mi sento di dire che noi, avendo già avuto questi banchi, li utilizziamo già da gennaio, abbiamo visto che uno dei grossi problemi della scuola, no, sapete, sono gli allunni che la scuola perde, no, coloro che abbandonano gli studi prima del tempo. Abbiamo visto che con ambienti che sono colorati, ambienti flessibili, gli studenti imparano con maggiore gioia, ecco, possiamo dire, quindi imparano anche meglio. Grazie.